Iniziamo il contest per i 100 iscritti, dai raga! Ehi, bello a tutti Rexosi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Rexboom ed oggi siamo qui per lo speciale 100 iscritti, abbiamo raggiunto la scorsa settimana 100 iscritti ora ho visto che siamo a 108, 110, 109, vabbò, non mi ricordo tantissimo bene ma... Eeeh ragazzi, è un altro traguardo per me dopo quello dei 50 iscritti, 100, 100 iscritti, siete tantissimi non so come ringraziarvi perché, cavoletti, 100 iscritti, un traguardo che non pensavo di raggiungere perché, raga, 100 iscritti sembrano pochi ma per me sono tanti, sono 100 persone iscritte al mio canale quindi, grazie arriviamo a 500 iscritti per un prossimo contest in questo contest potreste vincere 15 euro di ricarica per tutti i telefonini Android quindi, raga, se avete Android, partecipate ma andiamo alla parte più bella come si fa a partecipare? sotto i commenti basta scrivere hashtag partecipo non ve lo metto qui sullo schermo perché non voglio coprire questa figura di Google Play la tessera 15 euro di Google Play perché è troppo bella guardate quanto è bella eeeh ragazzi con questa tessera ci potreste comprare eeeh shoppata clash royale, clash of clans e i pacchetti skin di Minecraft Pocket Edition potreste comprare Minecraft Pocket Edition originale direttamente dal Play Store quindi, raga, eeeh sembrano pochi 15 euro ma in verità sono tanti ci potreste fare molte cose il secondo speciale invece sarà con uno youtuber o due poi vedremo eeeh vabbè ragazzi per questo video lasciate un like, commentate, iscrivetevi e ciao!